Devo dire che mi ha colpito molto e deve far riflettere le conseguenze che Bilton ci ha pagato sulla sua pelle, direi ieri, della propaganda dell'odio che va disseminando da due anni ormai, specialmente contro i nomadi, contro le minoranze etniche, contro tutti. Cioè l'idea che a situazioni comunque molto complesse si possano dare risposte semplici. La Ruspa appunto mi ha colpito vedere la vera e propria rivolta che c'è stata sul web per questa sua scelta amministrativa da parte evidentemente anche di molti elettori suoi e ha raccolto la tempesta del vento che ha seminato. Ho letto commenti del compagno Biltonci, commenti anche sgradevoli a volte che hanno travalicato anche alcuni limiti. Però credo il sindaco dovrebbe riflettere, anche stavolta ha perso l'occasione per fare un'operazione verità e non solo propaganda e soprattutto per il futuro abbassi i toni perché quando si tratta poi di gestire situazioni complesse rischia di essere travolto dalle sue stesse bugie.